Ciao amici di Italia Talk Games, e niente, vi avevo dato appuntamento a domani ma chissà quanti altri video dovrò fare prima di domani, spero che questo sia l'ultimo perché vi devo dire la verità sono un po' stanco perché oltre ai video devo fare quelle altre 200 cose della mia giornata di lavoro. Comunque, questi ragazzi non sono indiscrezioni, questi sono elementi trovati da Durandil Pess, un dataminer molto credibile, molto autorevole, su cui ci sono pochi dubbi sulla veridicità di quello che dice. Lui trova questi elementi dentro al codice di gioco, riesce a decriptarlo, vabbè, è un hacker, è un informatico davvero bravo, però lui trova queste cose, abbiamo visto anche con le leggende eccetera, sono nel codice, non si sa né se Konami tirerà fuori tutto questo, è probabile, ma soprattutto il quando, perché qui si parla di Master League, non vorrei che dopo giovedì non arriva la Master League di Ma tu avevi detto che c'era? No, cioè, qui ci sono questi elementi, gli elementi della Master League dentro il codice di football ci sono da mesi, sia chiaro, sia chiaro questo, però questi dati ci sono all'interno del codice, quindi prima o poi, speriamo prima che poi, Konami questa benedetta Master League da tirerà fuori. Ma non si parla solo di Master League, si parla anche di una nuova modalità, campionato online team, sembra, da quello che dice Durandil, si parla di stadi, si parla di licenze, andiamo a vedere in dettaglio tutto quello che ha rilasciato fino a questo momento Durandil, che sta aggiornando questo codice in tempo reale, io vi porto quello che ha mostrato fino a questo momento. Prima cosa, gli stadi, elenco degli stadi football 2024 nel database attuali, solo versioni console e PC, come avevo annunciato a giugno, molti stadi persi in Brasile, temporaneamente, e ritorno ai 5 stadi finti più l'Amsterdam Arena dell'Ajax. Eccolo qui, quello che dovrebbe essere attualmente gli stadi in e-foot del 2024, Camp Nou, Meazza San Siro, Olimpico, Roma-Lazio, Lazio, lo stadio dell'Atalanta, lo stadio del Monza, il Wembley, Old Trafford, Emirates, Allianz Arena, novità, Joan Cruyff Arena, Saitama Stadium e stadio Urbano Caldeira, La Bombonera, MRV, Mass Monumental, Azteca, Cron e Universitario. Novità, ritornano gli stadi fake, per così dire, Nuovo Trionfo, Orione, Escorpiao, Martingal e Sports Park. L'Orione, che qualcuno dice che è quello più simile al Maradona. Non torno sul discorso dello stadio Maradona, l'ho fatto mille volte, quindi per il momento vado oltre. Ci dice pure che il campionato belga ha perso i diritti di licenza ufficiale e tutte le squadre hanno più il nome, il logo e le divise reali. I giocatori mantengono la licenza, perché ovviamente è FIFPRO. Onestamente, del campionato belga a me non interessa più di tanto, non so voi. Diversi oggetti di scena su licenza, Ligan, Super League, D1, Brasiliana, J-League, sono stati aggiunti anche nella versione mobile, per i filmati di ingresso dei giocatori in campo e di presentazione dei trofei. Alcune nuove righe di testo sembrano indicare l'aggiunta di una modalità campionato. Tu puoi cambiare i team dopo aver cominciato la My League. Attenzione, che cosa sembra essere questa My League? Lo spiega qui Durandil. La modalità sembra chiamarsi My League ed è probabilmente solo online, ma contro l'intelligenza artificiale. Ecco alcune righe di testo che descrivono in dettaglio come funziona la modalità di gioco. Diventa il manager della tua squadra preferita e prendi in diversi campionati intorno al mondo. La chiave per un team più forte è il manager. In My League avrai la possibilità di aggiungere le tue abilità tramite i points experience over the course. Cioè, insomma, sembrerebbe una modalità manageriale online, sim, sembrerebbe. Poi contro l'intelligenza artificiale, magari è anche contro, è anche con, cioè, si può anche giocare. Non si capisce bene. Perché dice solo online, ma contro l'intelligenza artificiale. È un po' strano, cioè, come online, contro l'intelligenza artificiale, si potranno, cioè, in realtà sembrerebbe, non online, sembrerebbe contro l'intelligenza artificiale. Forse online serve soltanto, serve soltanto per poter giocare. Deve essere online, comunque, è un po' strana questa cosa. Comunque, My League contro l'IA, però, quello che direi che è più che online, sembrerebbe sim da quello che si legge qui. Cioè, devi essere il manager, devi giocare. Forse qui Durandil ha fatto un po' in fretta. Io quello che capisco è che sembra che sia una modalità manageriale e basta. E non si possa giocare, almeno così, da queste righe che lui legge. Cercheremo di capire nei prossimi giorni con più calma. Poi, a seconda dei risultati ottenuti nella modalità la mia lega, sarà possibile ottenere dei booster per incrementare le abilità dei giocatori. Quindi, come dire, sarà proprio una sorta di gioco di ruolo in cui uno può, sembrerebbe un po' anche in stile RPG, per così dire. Vedremo, vedremo, cercheremo di capire come funziona. Qui, ripeto, lui va a prendere questi dati, vedete tutte queste linee, vedete questi qui, sembrano tutti i dati, elementi legati a questo nuovo campionato. Boosters Acquired, Acquiring Boosters, Welcome to Manager Info, Affiliazione. Insomma, non lo so. Sembrerebbe davvero che ci sia questa nuova modalità. Infine, infine, dicono che sono stati aggiunti alcuni file di amminimazione al capitolo finale della Master League. È una festa con la squadra. Questo scrivono, Final Chapter. Dicono che praticamente dovrebbero essere dei file per la celebrazione del capitolo finale della Master League. Ora, ragazzi, tutto questo durante il PS, e io mi fido, onestamente, è all'interno del gioco. Questo ci sta dicendo. Questa My League potrebbe essere la nuova Master League, potrebbe essere che diventa solo Sim, non lo so. Potrebbe essere Spuria, potrebbe essere un'altra modalità, ulteriormente alla Master League. Non lo so. Le domande che si possono fare ci sono tante. Io vi ho mostrato tutto, stadi, campionato belga, questo fatto del mobile, e poi questa è la cosa più interessante. My League. Sarà la Master League? Sarà una nuova modalità? La My League sarà una nuova Master League? Ragazzi, io non lo so. Questo è quello che si può leggere, come potete vedere. Seleziona una regione, seleziona una lega. I giocatori possono essere presi in prestito. Seleziona il campionato che vuoi giocare. Seleziona una squadra che vuoi modificare. Sarai il manager della squadra selezionata. Puoi prendere giocatori dal tuo team o in prestito. Se tu inizi con questo team, devi selezionare il campionato in cui vorresti giocare. League Selection diventa il manager dei tuoi team favoriti e prendi giocatori. Oppure si potrà giocare online contro altri giocatori, non contro la I. Sarà tutto manageriale? My League? Non lo so. Ci sono tante le domande. Io vi posso vedere, posso mostrare tutte queste cose. Staremo a vedere. Sarà legato comunque al Dream Team? Non sarà legato al Dream Team? Insomma, tante domande che giovedì forse, forse alcune domande Konami finalmente ce le svelerà. Oppure sono tutti aggiornamenti che arriveranno dopo giovedì. C'è qualcosa, c'è qualcosa all'interno del codice di football 2024. Questo è poco ma sicuro. ML, vedete? PES Mobile, Content Assets Animation, ML. Quindi la Master League dovrebbe arrivare anche sul mobile. Che lo ripeto, fino ad oggi Konami ha sempre detto che la Master League sarà a pagamento. Cosa sarà questo My League? Lo scopriremo solo vivendo. Io vi ho dato tutte le informazioni. Se volete andare a vedere il Twitter di DurandilPES basta che lo chiedete nei commenti, così le vedete voi tutto il tempo che volete. Al momento queste sono le informazioni disponibili. Quindi, anzi, faccio un'altra cosa, aspettate solo un secondo, datemi il tempo e vi traduco tutte queste immagini in italiano. Ci vuole un secondo, eh? Aspettate un attimo che arrivo in un secondo. Eccomi qua. Ho dovuto fare un montaggio video, non li faccio mai, ma mi sono ricordato che c'era la possibilità di tradurre le immagini. E fatemi ringraziare Nicola Smorcese per la segnalazione che è stato fondamentale stamattina sia per questa che per un'altra segnalazione. Allora, vi mostro un po' di cose. Congratulazioni, ho tenuto con successo la promozione. La mia lega verrà aggiornata presto. Una volta aggiornata tutti i progressi verranno ripristinati. Consulte il timer sul pannello del menu per conoscere il momento usato all'aggiornamento. Gioca partite contro AI nel corso di una stagione. Se le informazioni riguardano l'elenco dei giocatori speciali, configura i controlli giocatori durante la partita di impostazione di livello di difficoltà AI. Quindi si riconferma l'AI. Cambia squadri, progressi della stagione in corso, verranno annullati lo stato di promozione di tutte le squadre, verrà ripristinato. Le capacità di manager verranno trasferite. Giocatori con il massimo del potenziale. Gioca partite per affinare la tua tattica e tirare fuori meglio i tuoi giocatori. Premi per giornate. Reseleziona una squadra per la mia Lega. Tieni presente che se cambi squadri, progressi della stagione corrente verranno annullati e lo stato di promozione di processioni di tutte le squadre verrà ripristinato. Le capacità ma generali invece verranno trasferite. Questa modalità VS contro AI in cui giochi come manager nel corso di una stagione. Va bene, modalità versus AI come manager. Quindi dovrebbe essere sim da quello che capisco io. Dite voi quello che capite voi. Diente allenatore delle squadre preferite, affronti diversi campionati in tutto il mondo. La chiave per una squadra più forte è l'allenatore della mia Lega. Affinerai le tue capacità di manager guadagnando punti esperienza nel corso. Quando completi una stagione guadagnerai ricompense in base al numero di partite giocate. Le partite terminate in modo anomale non verranno conteggiate. In la mia Lega i progressi della tua Lega verranno azzerati periodicamente. Dopo l'azzeramento dei progressi del campionato ricomincerai da capo la prima giornata. Il tuo stato di sviluppo allenatore invece verrà mantenuto. Un timer verrà visualizzato due settimane prima all'inizio del ripristino. I dati del giocatore potrebbero cambiare a caso la manutenzione regolare. Se verrà cancellata il mio team. Configuro i livelli di difficoltà della AI in partita. I livelli di difficoltà differiscono. Principiante è il più semplice e leggendo il più impegnativo. Tieni presente i livelli di corrispondenza è fisso per le corrispondenze spotlight. Il stato GP supererà il limite di possesso a seguito del rilascio. Tutti i GP che superano il limite di possesso verranno persi. Tutti i GP che supereranno il limite di possesso a seguito del rilascio furono persi. Il saldo GP supererà il limite di possesso. Va bene. Questo booster si rifletterà sulle statistiche dei giocatori della tua squadra e le partite successive in poi. È stato aggiornato a 1 a più a 2. L'aggiornamento è non acquisito. Risultati passati. Booster manager nel corso della stagione. L'allenatore continuerà a svilupparsi e potrebbe eventualmente acquistare booster. Questi booster possono essere migliorati giocando un ulteriore numero di partite e possono essere potenziati fino a un massimo di 3. Benvenuto in informazioni sul gestore, rafforzare la tua squadra, dovrai far emergere il meglio dei tuoi giocatori gradualmente. Acquisizione dei booster. I booster potrebbero eventualmente essere acquisiti durante lo sviluppo. I booster acquisiti possono essere ulteriormente aggiornati. Affiliazione. Restate sintonizzati nella prossima puntata di MyLeague. Booster acquisito. Potrebbero essere apportate modifiche ai giocatori in prestito dalla squadra. Consulta il piano di gioco per eventuali modifiche. Dribbling di slancio. Migliora le capacità del dribbling del giocatore nella terza linea d'attacco, nel profondo territorio avversario. Passo che cambia il gioco. Migliora la capacità di passaggio del giocatore dopo il calcio inizio e il secondo tempo. Nelle circostanze in cui la squadra pareggia o perde. Partecipa agli eventi a tema applicabili. Partite, dream team, eventi dei football world. Gioca partite, evento a tema. Ragazzi, questo è tutto. Decidete voi quello che è MyTeam. Vedremo, vedremo, vedremo. Comunque sono molto interessanti queste indiscrezioni. Grazie a Durandil e grazie ancora a Nicola Smorgese. Vedremo un po' tutto questo. Se giovedì si trasformerà già in una nuova modalità o se ci sarà da aspettare. Ciao! Ciao!